... Bisogna cominciare a prepararsi. Che cosa guardi? Una foto di tua madre? Dai, no, non intristirti, non tormentarti, no, per favore. Non lo sai che il passato serve a tutti noi per imparare, per crescere. Fa vedere. Oh, mi sono commossa. Papà, entra. La migliore famiglia che esista è la mia.